Il nostro canale è già saputo che ci sono informazioni per la comunità di Arruba. E' un candidato del Partito AVP con probabilmente la notarribalista per l'elezione del 2017, il 22 settembre. E' un certo direzione che sta lavorando con probabilmente Paul Cruz, la notarribalista. Il nostro canale è parlato con il leader del Partito AVP, il sr. Mike Ehmann. E' un conto di noi che sta passando e che c'è informazione con Arruba e Pohaya in relazione con l'Esaacchi, mirando la informazione che sta tomando il momento in Acchi. Sr. Ehmann, un felice meredìa. Conto di noi. Felice meredìa, Spitt. Felice meredìa, felice tardi anche per l'Arruba. Awe, un giorno sicuro dopo l'evento grande di Green Square. E' un momento anche per il Partito, per seguire la mira in avanti e per il futuro del Paese di Arruba. Non c'è nessuna decisione, ancora a finale, per la candidatura del sr. Paul Cruz, lo qual ha creato un candidato di notizia, che il sr. Paul Cruz ha deciso di aerea, per motivo, che ha spero, alcun lunedì, iniziare il caso. E' un momento in cui ci siamo arrivati al momento di postulare il candidato, che lo ha ottenuto più chiaro e portare a un finale nel sviluppo della sua persona. e se sta ottenendo più tempo, che è, e torna a premire. E per motivo, il sr. Paul Cruz, aerea, informarmi, che è la sua proposta, il suo seguito, che se ben aerea, con un'altra parte di Green Square, con un'altra anima, un'altra parte di entusiasmo, lo quale non si può sentire, con un'altra parte di sr. Paul Cruz e tutti i candidati, che non ci trovi a superare la expectativa, quindi crea una certa confianza, se il sr. Paul Cruz senti, che nel momento in cui non c'è la mia clarità, che è la mia, che non c'è la sicurezza, che è quello che ha postulato, ma rivoluzione per la elezione. e per il motivo, io, io, scogli aerea, per visitare la sua seguidora, per quanto riguarda, per so me chiedere, per avere sicurezza, che c'è un punto final, tra l'interno di sviluppo, e se non c'è, io, mi informa, che ora io, io, scogli per notare un candidato, lo quale, ci sta compattendo con noi, ci sta passando in un momento, di riflessione con noi, e qualcosa che è importante, in questo primo momento, che il sr. Paul Cruz ha dimostrato, è il sentito di responsabilità, per avviare, ora che ha fatto, a donna, ministriale pubblico, tur, spazio, passare il trabolo, con il riconoscimento completo, di independenza, di ministriale pubblico, di importanza, di, di, l'instituto, non asci, non asci, non asci, non asci, di tur, spazio, con una mestiera, independiente, obiettivo, e nel primo momento è corretabile per mettere il portafoglio in Umbanda per non creare nessuna incertidumbre, ma dove il paese che il ministro del pubblico ha fatto il suo lavoro. Un respetto che ci hanno compartito, il pacco e il processo qui. E qui c'è un altro passo, ma con il suo Paolo Custoduna, dimostrando il sentito di responsabilità, ma durezza, per se lo che mi chiede ha sicuranza e chiarità, che c'è il suo lavoro, ma non tommo un passo come già, ma si è più difficile per me mesi e, possibili, anche con l'effetto del processo politico, del partito, e per il motivo è scogliare. Per ieri non c'è la expectativa, perché il tempo sta passando, e il dia 4 è giusto, e è importante, per me che sei, Paolo, avere clarità, e il suo deseo è che, l'anno passata, per il caso di cominciare il portafoglio, per andare a vedere un finale, nel caso, però, se è tutto il giorno sta mostrando, che non sta bene, c'è qualcosa di legge, e per il motivo è, la decisione che la tommo è ayer, di un buon comprendimento con il partito, e con il respetto e l'admirazione, di partito, per il sentito di responsabilità, e per il sentito di compasione, e l'apprezzo che ho, per il suo messo seguidore, per non avere una expectativa di portare un'anno, secondo il giorno di grande, ma cerca, è molto difficile, per il pubblico. È vero, probabilmente, se non c'è la possibilità di avere un candidato, se non c'è la possibilità di avere un candidato, se non c'è la possibilità di avere un candidato? Non c'è la possibilità di avere un candidato? Non c'è la possibilità di avere un candidato, che è importante per noi per cercare il processo con il nostro cammino. Mi ha messo in un'apprezzo con la Sra. Elia Cruz, mi ha messo in un'autorope, con Polte, e tutto quello che mi ha detto di avere un tema qui sta con la Ruba, e il nostro amore, che è un paese per la politica, che è un paese per la politica, che è un individuo. È il nostro amore, che è una famiglia di Berroff, che è una famiglia di Cruz, che è una famiglia, che è una famiglia, che è una famiglia, che è una famiglia, e che è una famiglia, che è una famiglia di più persone, che ha dimostrato interesse per il servizio pubblico. però, da poco tempo, non ci vediamo, come sa che è stata traduzione, specificamente nel caso di Pol, nel mio modo da parte. Grazie. Esa è la parola del leader del Partito AVP, il signor Mike Heyman, acclarando la posizione del signor Paul Cruz, che personalmente mostra l'interesse di lo, probabilmente, mirando il desarrollo in relazionato con l'investigazione che sta andando, probabilmente lo darà un passo per la prossima elezione, del 22 settembre del 2017. Il costo può cambiare ancora? Depende di chi ha il desarrollo che ha il fatto, però questa è la decisione che ha fatto. con il cameragrafo Elton Malone, da Ospita Andrade, per Telenoticia.